Si vede poco. In porta era Brolin mi pare. Brolin, sì. Il giocatore del Parma. Ecco. Forse lo possiamo vedere ancora con rallentatore? Con rallentatore era già rallentatore. Ma adesso ancora più rallentato. Ha più rallentato ancora. Ecco, naturalmente ha avuto tanti di quelli... Ecco, guardate. Vedete? Guarda che roba! Il pallone di qua.